La giunta di Natale è fatta. L'attesa è stata più lunga di quello che si potesse ipotizzare, ma dopo una infinita serie di incontri e trattative, il sindaco Lugio Greco e gli alleati della prima ora alla fine sono riusciti a trovare un accordo sostanziale. Due riconferme, quattro new entry, con la sorpresa dell'architetto Paolo Marchiciana e della commercialista Mariangela Faraci, che prende sia il bilancio che la fascia da vicesindaco. L'annunciato ingresso col doppio ruolo di Salvatore Incardona completa la squadra di governo definitiva. Questa mattina è arrivato il varo di quello che dovrebbe essere un governo di ripartenza, che avrà come obiettivo prioritario quello di salvare i conti del comune, evitando anzitutto il dissesto. Il primo cittadino e i pochi alleati rimasti a sostenerlo ripartono così dal Greco Quater, con una formazione che mette in campo volti vecchi e nuovi e che vede come protagonista assoluto un unico partito, l'MPA, che dopo i dubbi dell'ultima ora porta in giunta due nomi. Il riconfermato Ivaliardi, che prende l'ambiente e il decoro urbano, e l'ex assessore della giunta Fasulo, Ugo Costa, che torna a Palazzo di Città dopo l'esperienza del 2010. E la presenza degli autonomisti di fatto è l'unica caratterizzazione prettamente politica del Greco Quater. Il sindaco in questo lasso di tempo ha perso l'appoggio di Forza Italia e dei civici di una buona idea, seppur per motivi diversi. I cuffariani della nuova DC hanno invece optato per un appoggio esterno, che si sta già concretizzando attraverso un atteggiamento in consiglio comunale per nulla conflittuale. I nuovi pezzi della giunta e dell'avvocato cercheranno di stare insieme, con l'intenzione innanzitutto di bloccare sul nascere l'opzione di Sesto. Il primo obiettivo è quello di superare le fragilità, le debolezze dal punto di vista economico-finanziario, che è quello che sta vivendo l'Ende. Perché se non si supera questa difficoltà, chiaramente si corre il pericolo di bloccare tutto, progettualità, lavori appaltati, lavori da appaltare, l'organizzazione complessiva dell'Ende. E quindi tutto l'impegno e tutto il lavoro, dai prossimi giorni, sarà concentrato ovviamente sulla questione economico-finanziare dell'Ende. E per sistemare i conti Greco punta su un assessore prettamente tecnico. Al settore bilancio andrà così Mariangela Faraci, commercialista con un passato tra le fila del PD. A lei è l'arduo compito di trovare soluzioni strutturali contro il pericolo di crack finanziario. Sarà proprio sulle sue prossime mosse che saranno puntati i riflettori nelle prossime ore. In giunta rientra anche l'altra uscente, la fedelissima Romina Morselli, riconfermata ai lavori pubblici, che in questo modo riprende da dove aveva concluso, portando avanti i progetti legati ai programmi di finanziamento, che anche in questo periodo di stasi iniziano ad arrivare in gara, passo decisivo per non perdere i fondi già stanziati. E poi Salvatore Incardona, che rivestirà la doppia veste di consigliere, assessore all'istruzione e allo sport, turismo e spettacolo. A completare la rosa di governo, la casella riempita dall'altro indipendente Luigi Di Dio, che piazza Francesca Caruso, già consigliera comunale durante la giunta messinese allo sviluppo economico e per l'appunto Paolo Marchiciana, che prende urbanistica e patrimonio. La composizione della giunta si traduce in una geografia politica in consiglio che arriva a raggruppare così appena sette consiglieri. Il sindaco però si augura che l'intera assise civica dimostri responsabilità. Confido anche rispetto alle dichiarazioni di tutte le forze politiche e civiche presenti in consiglio comunale, che ci sia senso di responsabilità e buonsenso da parte di tutti nell'aiutare il sindaco e l'amministrazione a superare questo momento di grave difficoltà.